Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video In questo video aprirò questa confezione Confezione, diciamo Questa blister collection, blister pin No, in realtà non è né blister né pin Questa qui, ragazzi, è una Ok, ricominciamo Allora C'è anche due Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con questa nuova apertura In cui aprirò due pacchetti, un sole luna Un vapore accesi Ci sono tre carte oro all'interno Freligator, Tyflution e Meganium E più il blister, eccolo qui ragazzi Il coin, la medaglietta di Victini Tutto arancione, quindi Lasciate subito un bel like E dopo la sigla andiamo ad aprire questi Due pacchetti Eccoci qua ragazzi, andiamo ad aprire questi due pacchetti E vediamo cosa troviamo Allora, Freligator, Tyflution e Meganium Già ve l'ho detto prima che c'erano, quindi Questa confezione si può rompere Perfetto ragazzi, confezione aperta a meraviglia Ecco qua Riproviamo Abbiamo tre tentativi Il primo tentativo è andato molto male Andiamo con il secondo Ragazzi, il secondo tentativo è quasi riuscito Non sapevo che un pezzetto di carta avesse tutti questi strati Ecco qua ragazzi Come cacchio ho fatto? Stavo per aprire il pacchetto con tutta la confezione chiusa Allora, quando c'è il pacchetto in mano che devo aprire io non ci riesco Questo qui che stava chiuso sono riuscito ad aprirlo Non so come ho fatto, quindi Pacchetto che estraiamo Carta codice che non è carta codice Ecco qui Bustiamo Bustiamo la bottina Bustiamo la bustina Hashtag bustiamo la bottina Che spettacolo ragazzi Ogni giorno lo c'è Ma chi è che vedo tutti questi hashtag strani? Hashtag strani Ok, forse sono solo un alfabeto e basta Comunque Attenzione, ristraiamola Abbiamo Prima carta Fairly Gator Olografico Che mettiamo subito nella sleeve Perché Spettacolare E poi perché mi mancava anche Quindi Slivato Cioè, sliviamolo Ora è slivato Mettiamolo qui a destra Poi Abbiamo Attenzione Eccolo qui Tyflution Che magari se si mette a fuoco è meglio Eccolo qua Tyflution Olo Subito nella sleeve Anche questo Perché anche questo mi mancava L'unico che già avevo Mi sa che era mecanium Senza me sa È mecanium Proviamo ad estrarlo con L'ho rovinato tutto O forse no Vediamo se l'ho rovinato Non tantissimo Meno male che già ce ne avevo altri due mecanium Quindi molto bene Allora Anche mecanium Lo sliviamo insieme agli altri due Starter Eccolo qua Starter di seconda generazione Slivati Mecanium Tyflution E freligator Confezione che possiamo buttare Ma prima prendiamo la Medaglietta Ok Cartoncino È tornato addosso Non so Sentito nella schiena Eccolo qui Buttato Allora Medaglietta di Victini Eccola qui Che se magari si mette a fuoco Ecco Perfetto Mettiamola qua dietro Vicino a Tyflution Ragazzi Perfetto Stava al centro Stesso colore Sono abbinati Quindi Abbiamo due pacchetti Sun and Moon E Steam Siege Iniziamo con Steam Siege Ragazzi Ne va a caso A caso È tantissimo Che non trovo Una fuori serie Ragazzi Voglio una bellissima Fuori serie Subito Questo pacchetto Lo disintegriamo Allora Carta codice Che togliamo Buttina Perché dico buttina Bustina Che buttiamo Tricca 3 Che tricchiamo E andiamo con Attenzione Abbiamo un bellissimo Clefki Trainer Nuzolf Nidoran Maschio Lit Leo Snizzle Merrill Yamma Prime Preverse E Cloud Sempre questo Lo trovo Non è possibile Ogni pacchetto Ogni apertura Sempre questo Di Cloud Allora Secondo Ultimo pacchetto Perché erano solamente Due pacchetti Questo qua Di Solgaleo Ragazzi Speriamo sia un po' Più fortunato Questo si è Disintegrato In 3 secondi E in più C'è la carta codice verde La vedo molto dura Qui La vedo Trick l'ho fatto No Trick a 4 E andiamo con Energia folletto Che magari Ecco qui Fairy Energy Corsola ragazzi Che mi sa che mi No è impossibile Che mi mancava Perché è una comune Ultrabole ho trovata Ma non l'ultrabole Che volevo Pelipper Grabin Firo Snapboard Sandile Picky Pack Torra cat Reverse Attenzione Maschere Raro Molto male ragazzi Questa apertura Non è andata molto bene Però Dove aprire questa confezione Per forza Perché volevo mettere Subito da parte La medaglietta Più le due carte Teflution e Felligiatro Allo quindi Spero che il video Vi sia piaciuto lo stesso Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E Ci vediamo al prossimo video Like, subscribe, share E tutto quello che volete E ricordate L'hashtag Che vi avevo detto Prima Bustiamolo No aspetta Com'era Buttiamo la bustina Però era Bustiamo la buttina Tipo una cosa così Vabbè comunque Andatela a rivedere Perché tanto l'hashtag Ve lo metto prima Però ricordate di mettere Quell'hashtag Che vi ho detto prima Quindi Vabbè niente Al prossimo video Vabbè E Grazie a tutti